Il Divulga Fiore, informazioni verificate. Nel 2013 la Fondazione Quartieri Spagnoli, Focus, ha avviato a Napoli un laboratorio di rigenerazione educativa, sociale e produttiva nel cuore dei quartieri spagnoli, in un ex monastero. I quartieri spagnoli costituiscono un unicum in Europa, una periferia ad altissima fragilità sociale in pieno centro storico. Furono costruiti dagli spagnoli nel 1500 per la truppa occupante e sono poi diventati quartieri di malaffare. Sono ancora un'area emarginata. Pensa che l'illuminazione pubblica è arrivata soltanto nel 1995. Qui risiede il 10% dei bambini napoletani. La disponibilità di verde pubblico è la più bassa in Italia. Qui si registrano i maggiori tassi di disoccupazione e inoccupazione e il più alto rischio di devianza in età precoce. E infine uno dei quartieri più densamenti abitati d'Europa. La sede di Focus, Fondazione Quartieri Spagnoli, è l'ex istituto Monte Calvario, che nel tempo si era svuotato di funzioni e si era deperito nelle strutture. Insomma, non serviva più a nulla. Parliamo in totale di circa 10.000 metri quadrati. L'immobile è stato appunto affittato nel 2013 per avviare un laboratorio di rigenerazione urbana. Il progetto è iniziato con il coinvolgimento di un centinaio di giovani inoccupati e disoccupati, accompagnati e finanziati fino alla costituzione di cooperative indipendenti. Diversamente però dalle analoghe esperienze a Parigi, Vienna e Amsterdam, questo progetto gode soltanto di risorse private e di formule di sostenibilità basate sulla condivisione e la partecipazione di imprese e cittadini. Quali sono le direttrici guida? L'educazione come driver di sviluppo a ogni età e livello, la creazione di occupazione e autoimprenditorialità, l'ibridazione di gruppi sociali e stili di vita, gli interventi di alta qualità formale, ecologica e ambientale, l'insediamento di attività imprenditoriali stabili o intermittenti coerenti con il progetto e disposte a partecipare economicamente alla sua sostenibilità. Oggi abbiamo di fronte una comunità educativa e produttiva di imprese culturali e creative, per questo noi ne parliamo. Più di 1500 persone in totale, 168 nuovi posti di lavoro, 350 bambini iscritti nelle nuove scuole, 43 persone con difficoltà cognitive che vengono seguite, 19 imprese insediate secondo dati recenti che risalgono agli ultimi anni. Oggi nei quartieri spagnoli ci sono un asilo nido, una scuola dell'infanzia, una scuola primaria, una scuola secondaria, una sede di staccata dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, una cooperativa che propone più di 60 corsi di formazione informale per giovani e adulti, una sala convegni, un cinema, una galleria d'arte, una biblioteca, una palestra, un bar, un ristorante, una pizzeria, un centro di abilitazione per persone con difficoltà cognitive, un orto urbano, la sede dei fotoreporter dei quotidiani del Sud, la redazione di un giornale sportivo online, un laboratorio teatrale, una scuola di danza, un istituto di formazione dei musicoterapeuti, un incubatore per start-up, un co-working, un centro studi della storia locale, laddove non c'era nulla se non disperazione e malessere. Nel 2014 è stata fondata l'orchestra sinfonica dei quartieri spagnoli, con un proprio auditorium in un vicino quartiere. Si tratta dell'unico progetto italiano di rigenerazione urbana direttamente sostenuto da un paese estero, e cioè la Spagna, dal 2019. Nel 2018 inoltre il progetto è stato invitato dal Ministero della Coesione Francese a presentare il proprio modello ai 187 sindaci impegnati in programmi di riqualificazione di aree periferiche. Queste esperienze non sono tuttavia fini a se stesse e non valgono soltanto per i quartieri in cui insistono, bensì assicurano ragioni e premesse per processi di trasformazione dell'intera città. Grazie Focus a nome di tutta l'Italia. Iscriviti, like e condividi.